La creatività è qualcosa di nato in alcuni esseri umani oppure è una competenza che possiamo imparare? Ecco, io ho sempre pensato che fosse una dote con cui nasciamo, che i grandi artisti o i grandi pittori sono nati con un'inclinazione, un'indole particolarmente creativa che gli ha permesso di diventare dei generi conosciuti in tutto il mondo. Negli ultimi anni però ho realizzato che in realtà la maggior parte degli artisti come vi mestrerò tra un po' hanno sviluppato la propria creatività nel corso della vita. E quello che ho finito per credere è che la creatività in realtà è una competenza che chiunque di noi può imparare. Il punto però è che il modo in cui si apprende è molto più controintuitivo di quello che molte persone credono. Prima di parlarvi di come nasce la creatività però voglio raccontarvi alcuni aneddoti che rendono un po' più chiaro questo concetto. Quanti di voi infatti sapevano che la famosa opera, anzi l'opera d'amore più famosa al mondo, ovvero Romeo e Giulietta di William Shakespeare in realtà non è stato il frutto della mente geniale e creativa di William Shakespeare. La prima versione dell'opera infatti fu scritta dallo scrittore Luigi D'Aporto dentro la sua opera istoria novellamente ritrovata di due giovani amanti. E dopo di lui la stessa opera fu ripresa prima dall'altro scrittore italiano Matteo Bandello dentro la sua opera novelle e poi ancora da Arthur Brooke dentro la tragica storia di Romeo e Giulietta. E solo dopo è arrivata l'opera diciamo così perfetta da cui sono nati centinaia se non migliaia di spettacoli ovvero il Romeo e Giulietta che oggi tutti conosciamo di William Shakespeare. Questo stesso modus operandi non lo vediamo solo in scrittori del calibro di William Shakespeare ma lo vediamo un po' in tutte le discipline. Se guardiamo le opere ad esempio di Pablo Picasso, uno dei geni creativi più influenti del novecento, vediamo che la maggior parte delle sue opere sono fortemente ispirate all'arte africana. Anzi se guardiamo alcune opere derivanti dall'arte africana ci sembra proprio di guardare i volti e i corpi di alcuni personaggi all'interno delle opere di Picasso. Ma senza andare così lontano anche nell'arte più contemporanea o nel mondo del cinema, se guardiamo ad esempio Quentin Tarantino, ogni suo film ha dei fortissimi riferimenti ad altre opere cinematografiche. Se guardiamo Kill Bill vediamo tantissimi riferimenti ai film di Bruce Lee oppure nelle sue opere come Django o The Hateful Age vediamo fortissimi riferimenti a tutti gli spaghetti western americani. E anche all'interno di Pulp Fiction, ad esempio, oltre ai tantissimi, anzi alle decine di riferimenti culturali che ci sono al suo interno, anche i due personaggi tra i più iconici del film, quelli interpretati da Samuel L. Jackson e John Travolta, sono in realtà ispirati a un film italiano di Fernando Di Leo intitolato La Mala Ordina. Con queste storie sto forse dicendo che i più grandi geni creativi sono semplicemente persone molto brave a copiare da quello che hanno intorno? Ovviamente non sto dicendo questo. Quello che sto dicendo però è che questi artisti sono sempre fortemente influenzati o ispirati da qualcosa che è venuto prima di loro. Mi ricorderò sempre una frase che mi disse il mio insegnante a un corso di scrittura creativa che feci quando avevo vent'anni e dopo avermi raccontato la storia di Shakespeare che vi ho appena raccontato in questo video, mi disse che nel mondo dell'arte gli artisti mediocri sono coloro che copiano, i grandi artisti come Shakespeare invece sono coloro che rubano. E questo perché quasi sempre i grandi artisti sono coloro che riescono a rubare qualcosa di già esistente e poi renderlo una vera e propria opera d'arte. Come ha detto Jonathan Lethem infatti, ogni volta che qualcosa ci sembra completamente originale, nove volte su dieci è perché non ne conosciamo le fonti. I grandi artisti sostanzialmente sono dei grandi collezionatori di idee. Sono persone che hanno selezionato attentamente le fonti che hanno influenzato il loro modo di pensare. A differenza della maggior parte delle persone hanno creato attorno a sé un ecosistema di influenza che gli ha permesso di generare idee particolarmente creative. Nel libro Still Like an Artist si parla di questo concetto che è quello della genealogia delle idee. Ovvero che il nostro lavoro in quanto creativi, o se vogliamo essere dei creativi, è quello di costruire attentamente la nostra genealogia di mentori. Non è la nostra genealogia familiare composta dai nostri parenti, ma è quella composta dai mentori che più influenzano il nostro pensiero. Perché è esattamente dalle nostre influenze che poi nascerà il nostro istinto creativo. I grandi artisti infatti, a differenza della maggior parte delle persone, non hanno paura di prendere ispirazione. Invece noi tendiamo a pensare che l'idea geniale o l'idea creativa sia qualcosa che avviene nel sonno, la classica lampadina che si accende sopra la testa e da cui viene un'idea che nessuno ha mai avuto che improvvisamente rivoluziona il mondo e magari ci rende ricchi e famosi per tutta la vita. La verità è che non è così. Nessuno nasce geneo creativo. Dei grandi creativi lo si diventa. Però lo si diventa se utilizziamo il nostro tempo per farci influenzare dalle giuste persone. Questo vale nel mondo dell'arte, ma vale anche nel mondo dell'imprenditoria. C'è un bellissimo video di Steve Jobs che parla proprio di questo concetto. Il punto fondamentale che ho compreso negli ultimi anni è che le nostre influenze sono ciò che determina la nostra sensibilità artistica. E noi altro non siamo che la somma delle idee delle cinque persone che frequentiamo di più. Ovviamente non si intende solo frequentazioni nel mondo reale, ma frequentazioni anche nel mondo intellettuale. I libri sono una grandissima fonte di ispirazione. Io mi rendo conto quando scrivo che la mia scrittura è fortemente influenzata da tutti i grandi scrittori che ho letto e che hanno influenzato di più la mia carriera. E questi artisti a loro volta sono stati influenzati probabilmente da altri mentori che hanno plasmato il loro modo di produrre il loro lavoro. Quindi quello di questo video è un elogio al furto, mettiamola così. Ovviamente non intendo che bisogna andare a rubare e copiare tutto quello che c'è in giro, ma di non aver paura di rubare ciò che ci piace dai nostri grandi mentori e provare a interiorizzarlo. Provare a interiorizzare il loro modo di vedere il mondo. Se ci pensate, tutti i musicisti imparano a suonare replicando le scale musicali e i pezzi già composti da altri. I pittori imparano a dipingere riproducendo i capolavori già presenti all'interno del mondo. E anche la maggior parte delle band, come ad esempio i Beatles, sono nate come cover band, riproducendo pezzi di altri. Tutta la grande creatività nasce dall'ispirazione dei mentori che ci hanno preceduto. E questo significa che dovremmo fare molta attenzione alle fonti con cui riempiamo la nostra mente. Ciò che mettiamo dentro di noi, detto in altri termini, determina ciò che uscirà da noi. Questo ci fa capire che se passiamo la maggior parte del nostro tempo a essere influenzati da contenuti stupidi all'interno dei social, probabilmente anche il nostro output sarà abbastanza mediocre. Se invece la maggior parte delle nostre influenze viene dai libri che leggiamo, o dalle fonti, dalle grandi menti artistiche a cui ci ispiriamo, allora la nostra mente produrrà sicuramente delle idee molto migliori di quelle che potremmo mai produrre. Ogni nuovo libro che leggiamo, ogni nuovo artista che impariamo a comprendere, allarga la nostra percezione del mondo. Quindi il mio grande consiglio con questo video è impariamo a selezionare attentamente le nostre fonti perché la nostra sensibilità artistica e creativa dipenderà in larga parte da quello. Una delle fonti più impattanti con cui far proprie delle idee sono i libri. E questo perché ci permettono di passare tanto tempo dentro la mente di qualcun altro e di far nostra in modo molto più profondo la visione del mondo di quella persona. Ovviamente però c'è un altro discorso che è quello dell'ambiente che ci circonda, inteso anche come ambiente fisico. Non è raro sentire artisti che dicono che il viaggio, l'idea di viaggiare o di cambiare posto gli ha permesso di ottenere tante nuove idee. E questo perché ci espone a contesti diversi, a culture diverse, a persone diverse e anche semplicemente a un ambiente diverso. Quindi sarebbe stupido dire che l'ambiente in cui viviamo non influenza il nostro processo artistico. E questo è anche un motivo per cui, secondo me, se siamo preoccupati della nostra creatività allora dovremo anche cercare di vivere quante più esperienze possibili anche cercando di esplorare mondi e contenuti diversi. Oggi però per ecosistema e mondo che ci circonda non si intende semplicemente il mondo fisico all'interno del quale spostarci ma si intende anche quello virtuale. Dovremmo stare attenti anche ai contenuti che frequentiamo di più. Ogni volta che guardo contenuti, e ripeto, anch'io guardo un sacco di contenuti spazzatura non è che li ho completamente eliminati dalla mia vita però ogni volta che li guardo penso quanto tempo sto dedicando a questi contenuti e di conseguenza quanto stanno influenzando il mio modo di pensare perché se passo il 40% del mio tempo a guardare video completamente inutili di intrattenimento è ovvio che il 40% della mia mente sarà contaminata da cose che non mi potranno dare chissà quale output. E secondo me questa consapevolezza delle influenze di cui ci circondiamo può aiutarci anche ad avere più sensibilità nello scegliere come utilizzare il nostro tempo. Ecco, questo è quello che volevo trasmettervi con questo video io spero che questo spunto vi sia stato utile e che vi possa aiutare anche a scoprire nuovi punti di vista e nuove prospettive attraverso cui guardare le cose. Per il video di oggi comunque è tutto fatemi sapere se il video vi è piaciuto sentiamoci qua nei commenti fatemi sapere qualunque cosa vi venga in mente ovviamente se non siete iscritti a questo canale iscrivetevi a questo canale così non vi perderete i prossimi video che usciranno noi ci vediamo prestissimo in un prossimo video.